Wedding in Arco è il nuovo progetto dedicato a turisti e residenti per matrimoni e unioni civili dal comune di Arco, al quale l'amministrazione comunale sta già lavorando da qualche tempo e che conta di rendere operativo entro la primavera del 2017. Sarà possibile sposarsi o contrarre un'unione civile non solo nella sala frescata a Santoni, di Palazzo Marca Bruni Giuliani, ma anche al casino municipale e, la location certo più suggestiva, al castello, nel prato della Lizza o nella sala dei giochi. I costi per utilizzare questi luoghi per sposarsi varierà dai 500 ai 1.500 euro. Il comune di Arco, primo nel Trentino, andrà ad incentivare la celebrazione dei matrimoni nelle location più prestigiose della città. Sì, ci stiamo provando con questo progetto in cui crediamo molto. Stiamo lavorando da circa un anno in collaborazione con AMSA, che è la società partecipata all'amministrazione comunale, che poi gestirà le celebrazioni e l'organizzazione in particolar modo relativamente ai matrimoni che nascono dalle richieste di carattere turistico. Collaborazione inoltre con Garda Trentino, perché il tema è quello del wedding in Arco e nel Garda Trentino. Come diceva, giustamente è la prima proposta di un progetto completo legato ai matrimoni turistici e va precisato anche alle unioni civili con le coppie, cosa tra l'altro che è stata recentemente introdotta dalla normativa nazionale e abbiamo voluto recepirla anche in ambito legato alla proposta di carattere turistico. Le location quali saranno? Le nuove location, oltre alla Sala Santone di Palazzo Giuliani, che si aprirà anche alla proposta turistica, c'è quella sul castello, che è la più significativa, dove ci sono due opportunità, il Prato della Lizza e la Sala dei Giochi, conosciuta anche come Sala degli Scacchi. Inoltre ci sarà la possibilità di tre location presso il casino municipale, una al Salone delle Feste con la possibilità anche di collegarsi poi a un'organizzazione legata al pranzo e a tutto quello che ne consegue del matrimonio stesso. Per situazioni più contenute e più riservate la Sala Segantini e la terza alternativa è quella di utilizzare la veranda del Casinò o il gazebo, che tra l'altro sono in fase di ristrutturazione e fra poco saranno pronti anche per questo. Avete già in previsione alcuni numeri? Numeri è difficile, però abbiamo ragionato su dei dati che abbiamo acquisito per quanto riguarda il Comune di Marcese e il Comune di Garda che fanno già questo tipo di proposta. È un tema sul quale dobbiamo ovviamente anche investire in termini di promozione, come dicevo prima Garda Trentino ci aiuterà in questo. L'idea è quella di arrivare a resume nell'arco di 3-4 anni riuscendo a celebrare circa 250-300 matrimoni e unioni civili in un anno.